Appuntamento importante per la comunità di Praia Mare che dal 16 al 27 novembre ospiterà la missione popolare animata da 33 frati francescani che annunceranno il Vangelo attraverso diversi momenti di incontro. Saranno con noi per ridonare sempre più quell'entusiasmo di cui hanno bisogno le nostre comunità, li vedremo presenti in mezzo ai giovani, in mezzo alle famiglie, tra le case, faranno visita a tutte le famiglie della nostra comunità. E l'espressione di una chiesa, come sempre dice Papa Francesco, una chiesa in uscita, una chiesa in missione, una chiesa che non si chiude in se stessa ma va incontro all'altro, va incontro alle persone un po' più lontane, forse anche quelle che vivono con fatica, anche loro accostarsi alla comunità, alla chiesa, per cercare di portare loro una lieta notizia, che è il Signore, la notizia dell'amore di Dio, tendere la mano, aiutare tutti a ritrovare un po', quella gioia che scaturisce proprio dalla fede. Quindi risvegliare la fede, riaccendere la fede, farla risplendere un po' di più. E poi dar la missione, certamente, i frutti di un cammino che proseguirà, i frutti di una fede rinnovata, di una fede riaccesa, che va alimentata. Quel tentativo di pensare a tutti, la sollecitudine che mi accompagna un po' in questi anni, il desiderio da parte mia, da parte della Chiesa Diocesana, da parte del nostro Vescovo, di andare incontro, sempre come ci ricorda, di andare incontro ai nostri fratelli e sorelle, quelli che vivono un po' più con fatica, anche il loro cammino di fede. L'iniziativa della parrocchia Santa Maria della Grotta era già in cantiere da un po', in occasione del primo centenario di istituzione della parrocchia e del Giubileo della Misericordia. Cento anni di istituzione della nostra parrocchia, quindi fare memoria di un cammino così intenso, tanti volti, tante esperienze. Vedere come la comunità è cresciuta, diverse presenze di sacerdoti, i figli di Maria Immacolata, che si sono alternati per circa 37 anni, quasi 40 anni, nel fare memoria di cento anni, e con il festeggiare cento anni abbiamo pensato di non vivere soltanto momenti celebrativi. Ci sono stati eventi intensi, la presenza in mezzo a noi delle reliquie di Santa Maria Goretti e altre iniziative, altre occasioni in cui la comunità ha potuto riscoprire la sua identità, le sue radici, però dentro, attraverso queste iniziative, con queste iniziative, l'idea forte che ho sentito di dare un segno di evangelizzazione, un'esperienza di evangelizzazione che lasciasse il segno, che con il centesimo anniversario fosse un rinnovamento per tutta la nostra comunità. Quindi a conclusione proprio del centenario che vivremo giorno 30, 30 novembre, che ricorre proprio il centesimo anniversario dell'istituzione della parrocchia, prepariamo questa festa del centenario con dieci giorni intensi di missione popolare. Piazze, scuole, barre, luoghi di aggregazione saranno meta dei frati missionari che incontreranno ragazzi per un'esperienza di evangelizzazione notevole. Noi accoglieremo mercoledì 16 novembre alle 17 in piazza, con le istituzioni, i locali, con tutta la comunità, i giovani, accoglieremo i missionari. Dicevo, saranno circa 33, quindi è un numero molto, ecco, nutrito. Di solito le missioni popolare non sono così, sono 15 al massimo. Avere avuto la disponibilità di tanti missionari è un segno del Signore molto bello, è una benedizione grande per la nostra comunità. Poi per dieci giorni, pensate, 33 missionari è una grazia, cioè un incontrare tutti, un essere presente dappertutto. Le accoglieremo venendo qui in Chiesa, dove ci sarà la celebrazione iniziale con il mandato missionario, che il vicario a nome del Vescovo, quindi della Chiesa di Ocesana, dona il mandato del Signore per annunciare il Vangelo in questa comunità, quindi in questa piena comunione ecclesiale, affidiamo al Signore questo tempo benedetto, questo tempo di grazia, vivremo con la comunità un momento di accoglienza, di festa, di agape, poi saranno ospitati nelle famiglie, io colgo l'occasione già da adesso per ringraziare tanta disponibilità che si sta manifestando da parte della comunità molto accogliente ad accoglierli nelle case dove potranno riposare nelle famiglie e inizieranno così da 17 un programma intenso, momenti forti di preghiera, al mattino con le lodi tutti insieme, ci sarà l'esposizione del Santissimo per tutti i dieci giorni, frati qui in Chiesa ad accogliere per confessare, per il dialogo spirituale, per accompagnare chiunque vuole un po' di più, riscoprire, vivere l'incontro con il Signore attraverso i sacramenti, attraverso soprattutto la confessione, l'adorazione, quindi il cuore pulsante della missione è proprio questo stare alla presenza del Signore, questa presenza ardente proprio della preghiera nella comunità forte, viva, quindi questa spiritualità forte, la presenza, come dice Gesù Maria, ai piedi del Maestro, mentre tanti missionari andranno per le vie, visiteranno tutte le attività commerciali, tutte le famiglie, a tappeto si visiterà ogni angolo, ogni punto della parrocchia e poi si vivranno dei momenti di aggregazione intorno alla parola di Dio, diverse sere si faranno in diversi punti della parrocchia, pensate 18 famiglie ospeteranno i centri di ascolto della parola di Dio, in una struttura esterna alla parrocchia lunedì, martedì e mercoledì 21, 22 e 23 si incontreranno i giovani, si vivranno il centro di ascolto con i giovani, faranno visita tutte le scuole del territorio, abbiamo il liceo, abbiamo la scuola alberghiera, abbiamo altri istituti, abbiamo le scuole primarie e secondarie, ecco tutti i ragazzi saranno visitati nelle scuole, ci sarà allestita una tenda sul viale dove, ecco una tenda della misericordia, dove i missionari accoglieranno i giovani che lì passano, si avvicinano, insomma vivono i loro momenti, ecco lì dove le persone vivono, non è un attendere ma un andare incontro, una chiesa che non suona le campane, aspetta ma che va incontro, va nelle periferie esistenziali, l'incontro anche con le istituzioni locali, con l'amministrazione e il sindaco, proprio perché ecco i missionari ci aiutano a leggere sempre meglio il territorio, in quello sguardo evangelico per cercare poi di riconsegnare a tutti noi un impegno a sempre di più sostenere e aiutare a crescere. Un'iniziativa che di certo sarà un'esperienza forte all'insegna della misericordia e della gioia. Il mio desiderio è che questa missione ci ridoni una comunità sempre più unita intorno al Signore, una comunità gioiosa sempre di più, a partire da quello che ringraziamo il Signore già si vive, però ecco lo sguardo di misericordia, di amore verso ogni fratello, ogni sorella, io nel messaggio l'ho scritto, ogni giorno nel mio iniziare la giornata, il pensiero di un parroco è per tutte le persone che il Signore affida, non possiamo accontentarci di quelle tante o poche che ogni giorno vediamo in chiesa o comunque pregare, avvicinarsi ai sacramenti, ma il Signore ci chiederà conto di tutti, e allora cosa stiamo facendo per andare incontro a tutti, per aiutare a superare tante cose nella misericordia, ritrovare veramente quella fede, suscitare delle occasioni, questa è un'occasione forte, per dare a tanti, a tutti, la possibilità di riscoprire il volto vero della misericordia, dell'amore di Dio per la loro vita, capire che in Gesù Cristo si può ritrovare veramente la gioia, la forza per vivere una vita sana.